Tra Marcameglia e Lavastese è già amore a prima vista? Sì, 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 mi sono trovato subito bene dal primo giorno che sono venuto qui e soprattutto mi sono trovato bene d'accordo con i dirigenti, quindi scoccata subito la scintilla mi ha fatto subito accettare questo programma che mi hanno esposto i presidenti e insieme, sulla base dell'esperienza che ho, sulla base dell'esperienza che hanno passato i dirigenti proveremo a costruire qualcosa di importante. Avevi altre richieste? Hai scelto Vasto? Sì, sì, avevo altre richieste, alcune quasi chiuse, però è stata più forte di tutti la volontà da parte dei presidenti di prendermi e anche la mia voglia di venire qui perché sono venuto come turista, come amico di chi vive qui e quando mi hanno chiamato poi in quel momento ho detto ho accettato subito sono quelle cose a pelle che ti fanno capire che si può far bene quindi cercheremo di far questo insieme a tutte le persone che lavorano entro una squadra. Arrivi a Vasto, in una città dove si respira aria di Serie C? Sì, intanto mettiamo le basi e poi inizieremo a programmare anche per poter tornare a respirare quell'aria. Hai visto in video per il momento i tifosi biancorossi, la curva d'Avalos, il calore di questa tifoseria? Sì, sì, quella è stata una delle prime cose che mi ha convinto a venire qui. Qui si vive di calcio, io ho vissuto di calcio, ho giocato in stati con tantissimi tifosi io credo che il calcio è dei tifosi, il calcio si fa per i tifosi e quando c'è un entusiasmo del genere ho visto entusiasmo soprattutto nei momenti di difficoltà della squadra che ci sono stati l'anno scorso quindi vuol dire che qui si può fare veramente bene. Come giocherà la vastese di Marco Amelia? C'è un modulo che preferisci? Non ci sono moduli, cambieremo spesso in base alle situazioni di campo, l'importante è far rendere i ragazzi al meglio dare tutto, dare il massimo, mettere a disposizione dei tifosi quella voglia di giocare e ottenere i risultati poi i risultati dipendono anche da situazioni particolari ma io sono convinto che insegnare ai giocatori a sapersi comportare in campo è la cosa più importante. L'ultima, la promessa che fai ai tifosi biancorossi? La promessa è quella di dare il massimo, io già da qualche settimana lavoro H24 per la vastese insieme ai presidenti continuerò a farlo ancora di più da domani.